Il nuovo colpo di scena nella lunga telenovela del Parma Calcio avviene questa mattina. All'hotel Villa Ducale, la Magico Parma di Giuseppe Corrado avrebbe dovuto presentare il suo progetto per rilanciare il Parma in Serie D. E invece, dopo il dietro front davanti ai curatori fallimentari, ecco un altro stop. Niente da fare. Il comune di Parma non consente l'uso del Tardini, già concesso alla nuova società Parma 1913. In conferenza stampa è Giovanni Corrado a chiarire tutto. Assessore Marani che è venuto a casa mia, ci siamo incontrati, avremmo dovuto iniziare a parlare della figliazione e quindi di quella che era la richiesta per lo stadio. E poi ci siamo seduti a parlare, io ho aperto la mail che mi aveva inviato, lui mi ha detto Giovanni mi sento veramente molto in difficoltà, mi dice, perché purtroppo non voglio neanche farti aprire il computer perché ti farei semplicemente perdere tempo. L'assessore mi dice che io ho usato toni molto duri con lui, però che gli hanno permesso di aprire gli occhi su certe situazioni. E a differenza di ciò che ha sempre fatto nella sua vita, all'indomani, cioè ieri mattina, ha preferito fare una telefonata a tutti quelli che erano i membri del Consiglio Comunale, a tutti quelli che erano alcuni organi di stampa, credo abbia chiamato qualcuno anche che era qui, e da tutti ha ricevuto quello che era un veto a dare la disponibilità dello stadio Tardini ai sottoscritti. A quel punto lui mi ha detto, Giovanni io mi sento enormemente in difficoltà, però questa è la situazione, quindi io andrei contro un muro a 300 all'ora, perciò preferisco dirtelo prima perché mi sento più onesto. A quel momento io ho avuto 30 secondi, sono rimassa senza parole, poi gli ho detto, scusa ma è la FIGICI che assegnerà il titolo sportivo. E lui mi ha fermato subito dicendo, certo, però noi abbiamo già preparato una lettera alla federazione e alla federazione comunicheremo che lo stadio era dato solo alla Parma nel 1913 e non vi verrà data la disponibilità di giocare al Tardini. Vi lascio immaginare la mia reazione, quindi in modi non buoni l'ho accompagnato alla porta, me l'ho fatto uscire. Sono abbastanza onesto con voi, ieri sera ero incazzato, molto incazzato per questo, però stamattina mi sono svegliato e ho anche pensato che io di questa persona o stima, o stima perché alla fine è entrato in casa mia, ha detto una cosa veramente molto difficile da dire, ha avuto il coraggio di dire che non aveva la possibilità di darmi lo stadio, nonostante forse ritenesse, come ritenavamo noi, che il nostro progetto fosse serio, che avessimo le competenze calcistiche, che avessimo mostrato affetto non solo alla città ma anche a tutto quello che era stato il progetto per salvare la squadra. Evidentemente ciò non è possibile e lui ha avuto il coraggio di dire, ma l'ambasciatore non porta pena.